Sono di Sesto San Giovanni, la ex città delle fabbriche, ed è forse anche per questo che mi chiamo Sesto Secondo Turno. Mi appartengono estrosità, gentilezza, sensibilità, puntualità, armonia, generosità e meraviglia. Ho voluto rappresentare l'equilibrio attraverso le pagine di un libro, riempiendole con immagini che si rincorrono dialogando fra loro. Ogni immagine è un frammento di un'altra storia. Ma una nuova energia sta percorrendo il presente, e il mescolarsi di questi frammenti ci racconta una nuova, unica storia. Grazie a tutti.